Ieri c'è stato questo incontro organizzato da ANCI alla presenza dell'assessore Marras e praticamente è stata la ripartenza, dopo due anni nei quali non ci siamo incontrati in presenza, ieri eravamo tutti a Firenze, capofilia degli ambiti, ma anche altri sindaci e tanti operatori del turismo. Ci hanno annunciato l'uscita del nuovo bando che attendavamo con ansia, un bando importante perché darà le risorse per pianificare non solo questa stagione ma anche la prossima, quindi un bando che dà più respiro e anche più tempo per programmare i progetti e per metterli anche in pratica. Tante le somme messe a disposizione della Regione che giustamente chiedono anche una compartecipazione ai comuni, quindi io mi rivelgerò agli altri sette comuni dell'ambito del Valdanno proprio perché tutti insieme con questa compartecipazione poi non è una somma neanche eccessiva, 31 mila euro in due anni praticamente, però ci consente di avere il massimo del finanziamento per una progettualità di circa 190 mila euro, quindi credo veramente un progetto importante che consentirà al Valdarno di continuare la sua azione per farsi conoscere come destinazione turistica. Ci sono importanti novità, c'è praticamente un sistema per avere i dati praticamente in diretta, quindi su quali sono i movimenti, i flussi, le provenienze dei turisti e per quindi percepire in diretta quali sono i sentimenti del turismo. Si va verso una stagione importante, ora c'è il punto interrogativo della guerra che ovviamente ci tiene tutti in apprezzione, però ad oggi le prenotazioni sono un livello importante, le strutture mi dicono che si preparano a una stagione positiva e quindi cerchiamo un po' di supportarli e di sostenerli, quindi noi continueremo con la nostra operazione per far conoscere il Valdarno, lavorando sempre con i sito e con i social, lavoreremo sui nostri prodotti turistici ancora per valorizzarli il più possibile e lavoreremo per migliorare l'informazione e l'accoglienza turistica, che è uno degli obiettivi appunto del bando. Quindi la regione metterà a disposizione una rete, un sistema appunto per avere tutte le informazioni su tutta la regione, quindi da qualsiasi ambito potremo avere informazioni addirittura a prenotare eventi e ticket di tutta la regione toscana e questo ovviamente sarà un servizio che dovremo trovare il modo di mettere a disposizione di tutti i turisti che transiteranno e verranno nel Valdarno.